Ben ritrovati a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Giochi What the F***. Un paio di mesi fa ho deciso di accontentare il pubblico rosa giocando per circa un mese Mystic Messenger, che a mio avviso rimane uno degli otome slash dating sim più ingegnosi e ben realizzati di sempre. Oggi come allora vi propongo un gioco dedicato alle ragazze, o per chi ha depravazioni molto singolari, o entrambe le cose. Il gioco di oggi, dal titolo bizzarro, è disponibile gratuitamente sia per Android che iOS, ed è My Horse Prince, conosciuto anche come Yumapri. Durante il corso di questa rubrica abbiamo visto titoli altrettanto bizzarri, del calibro di Huttful Boyfriend, il gioco quello dei piccioni, dove dopo dieci minuti avevo voglia di farli fuori tutti. O anche qualcosa di un po' più estremo e davvero assurdo, tipo Love Brother Coon, il gioco dove praticamente dovevi abbordare le stampanti della Brother, dove ti innamoravi del piccolo Brother Coon, oppure Jurassic Heart, quello lì dove praticamente avevi una tresca con un T-Rex. Però questi ultimi due giochi, così come tanti altri che non vi ho portato perché erano veramente stupidi, e poi saremmo capitati troppo nel ripeterci, ripeterci, hanno scopo molto spesso pubblicitario. Quindi sono giochi che durano dieci minuti, massimo mezz'ora, e servono per pubblicizzare un prodotto, appunto come quello delle stampanti. My Horse Prince invece ha rubato ben otto ore della mia vita e dieci euro del mio portafogli in scioppate. Sì, dieci euro. Il gioco ha come protagonista Fraus, una giovane donna in carriera che per i primi tipo 20 balun di gioco farà uscite del tipo Oddio quanto lavoro, ma quando lo vedrò un materasso quanta fatica! Che poi quelli che devono per forza esternare in questo modo quanto lavorano sono quelli che sopporto di meno. Insomma, sta tipa lavora un sacco, guadagna un pacco di soldi e decide di staccare con la sua routine perché ha capito che c'è qualcosa che manca nella sua vita. Finalmente capisce che per essere meno rompivalle ha bisogno di un uomo. E tu donna, che vai a caccia di maschi, dove te li vai a trovare? La squinzia, tra millemila posti adatti e più vivi, sceglie saggiamente la campagna e raggiunge il primo maneggio a tiro, il più isolato possibile in mezzo alle montagne e che manca al tempo di conoscere e presentarsi con il cozzalo che va dalla baracca che come prima cosa chiede Ci sono ragazzi figli da queste parti? Madonna figlia mia, schiaffi! Giustamente la risposta che riceve è che da quelle parti può trovare soltanto i fantini come del resto è giusto che sia ma qualche minuto dopo fa l'incontro con Yuma. Ragazzi, io lo chiamo Yuma perché così lo leggo se mi correggete ancora una volta sulla pronuncia mi incazzo in ogni modo Yuma è... un cavallo apparentemente col viso di un hot guy parola che se usi il filtro sui testi del primo capitolo otterrai dai 50 ai 200 risultati Ovviamente è una boiata gigantesca quella del cavallo con la testa di ragazzo ma a tutto c'è una spiegazione Infatti dopo aver suscitato non poche emozioni nel cuore e non solo probabilmente della ragazza che in verità voleva un ragazzo abbiamo già scoperto che vuole usare molto di più Otteniamo un po' di lore diciamo così da parte del cozzalo che non ha nome a dire il vero e quindi continueremo a chiamarlo cozzalo e simili Insomma, il signore ci spiega che può accadere in rarissimi casi che una ragazza possa vedere al posto del viso di un cavallo quello di un bel ragazzo è che molto probabilmente se ne innamori Questo accade per le donne nate nell'anno del cavallo Mi è parsa così tanto una puttanata questa spiegazione che però alla fine di base regge cioè c'è una giustificazione non è che esiste un cavallo con la testa di Cristiano però la cosa che effettivamente non mi ha convinto sono le capacità di questo equino Il gioco è nulla più che un clicker con dialoghi da dating sim in sostanza si tratterà di far salire l'umore del cavallo rispondendo correttamente alle domande che ci farà durante i dialoghi e più sarà alta la sua barra dell'umore più otterremo punti cliccando sulle carote che man mano compariranno Tutto questo giro di azioni andrà avanti fino a quando non concluderemo il livello e basta solo il primo per far perdere il lume della ragione alla giovane Fraus per farle chiedere subito quanto costa mantenere un cavallo che tra l'altro compie gesti abbastanza ambigui durante l'indecisione se affibbiarsi l'equino probabilmente compromettendosi l'acquisto di un sub e lasciar stare Yuma interviene Vuoi essere il mio proprietario? Ok ed oggi è andata così Il gioco è quindi un cercare di portare al massimo la barra del livello per andare fino a quello successivo per un totale di ben 13 capitoli dove il secondo già comincia con cose strane del tipo che con tutto lo spazio verde a disposizione il cavallo preferisce anzi ha il vizio di correre solo su tapirulan con tanti tapirulan perché come dice il cozzalo il peso non è sufficiente a fargli durare a lungo l'attrezzo quindi giustamente ne deve comprare tanti è normalissimo tempo di un altro paio di occhi dolci e la tipa si porta il cavallo a casa cavallo che riesce a vivere in una casa cavallo che sa cucinare e insieme alla tipa vive anche un cane praticamente identico al cozzalo del maneggio ma la situazione è ancora tutta abbastanza nella norma normali come le domande a cui dovremo rispondere per far salire l'umore di Yuma io stesso già sarei con la barra al massimo se potessi vivere in una casa e non in una stalla ma purtroppo il brutto di questo gioco è che se non azzecchi per puro caso la risposta giusta l'unica che farà scendere l'umore Horse Prince potrebbe anche farti il favore di darti un'altra possibilità al costo di vederti una pubblicità di Clash Royale porca di una miseria signori lo giuro non gioco a Clash Royale non sopporto tutti questi video di spacchettamenti e adesso che in un gioco ambiguo da portare a termine devi guardare anche la pubblicità non schippabile non esiste semplicemente non esiste infatti quelle poche volte che ho sbagliato ho preferito fare a meno del punteggio piuttosto che vedermi la pubblicità che tra l'altro poi il gioco è infame perché mettono a pagamento il premium per farti togliere le pubblicità dal gioco ma non ti specificano che quella per la ripetizione della domanda non è inclusa nel pacchetto maledetti grabberini a dire il vero non succedono poi tantissime cose durante il gioco a parte lo sbloccare di volta in volta nuove immagini kawaii per chi vuole Yuma come un sbando ma ama anche i cavalli semplicemente andremo avanti capitolo dopo capitolo vedendo in che situazioni si andranno a infilare la ragazza e il suo cavallo ed il cozzalo di prima delle sue mille mila forme che a lungo andare cominciano a diventare inquietanti e non ho ancora ben capito se alla fin fine sono effettivamente entità diverse o è sempre la stessa che cambia d'abito in ogni caso hanno risparmiato nel comparto personaggi l'unica cosa che diciamo mi ha convinto poco per quanto riguarda la moltitudine dei personaggi è che succede sempre quella situazione odiosissima ah ma io somiglio a tizio perché sono suo cugino ma perché sono suo zio c'è questa situazione molto strana che verrà ripetuta tante 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 a volte in praticamente tutti i capitoli avremo Yuma operaio di cantiere Yuma surfista che flippa con gli occhiali da sole Yuma bagnato che fa sentir la presenza Yuma rock'n'roll Yuma che finalmente qualche gara la vince e poi arriva Ryuma che è praticamente un cavallo identico a lui solo che ha i capelli più rossicci e di dentini a punta quindi è cattivo è praticamente come quando ne picchia duro entrambi i giocatori prendono lo stesso personaggio e quindi ha colori ed outfit differenti la situazione è praticamente quella insomma il cattivo sfida il buono gli allenamenti si fanno più duri i due cavalli fanno a gara chi ce l'ha più lungo con prove di forza e simili e la tipa nel frattempo fa anche qualche pensierino di pigliarsi anche l'altro cavallo il che per una mente depravata è anche il massimo e come se non bastasse diventeremo anche fantini del nostro cavallo dopo un convincente vuoi cavalcarmi? cioè il cavallo non c'ha gli occhiali però il tono è quello lì io comunque non lo sto mostrando in continuazione perché potrebbe essere ripetitivo ma le allusioni in questo gioco davvero si sprecano però come è facile aspettarsi cavalcando Yuma vinceremo anche la gara contro Ryuma e il nostro rapporto col cavallo si farà sempre più stretto e dopo la gara riprenderanno altri minigiochi per portare avanti la fattoria di Yuma che nel frattempo avremo acquistato ma quanti cacchio di soldi ha sta tipa? tutto va avanti con tranquillità e dopo qualche capitolo mi sarei aspettato un finale diciamo normale anche perché stavo spendendo un sacco di soldi in carote d'oro che vanno a botta di 1,10 euro ogni 5 che ti consentono di farmare più velocemente anche perché volevo portarvi subito il gioco sul canale però al penultimo capitolo succede qualcosa ci troviamo in montagna è inverno e Yuma è intento a sciare altre cliccate ossessive per cercare di passare a livello successivo lo passiamo e avviene il solito dialogo tra noi e Yuma giustamente la protagonista chiede molto gentilmente a Yuma se puoi insegnarli a sciare e lui dice no insiste un pochettino e la risposta con cui se ne esce Yuma alla fine è lasciami allenare in pace non ho tempo per queste cose bah non l'avesse mai detto eh ma io ora non voglio essere più il tuo fantino ma chi cacchio sei io ho comprato pure la fattoria ho comprato pure a te se proprio te lo devo dire vedi di fare il cavallo vattene a quel paese io mo ti lascio qua e così succede la tipa cammina 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 comincia a essere stanca e si perde nella tempesta di neve dopo un po' trova fortunatamente una casa dove ovviamente per riscaldarsi deve accendere il fuoco e come farà ad accenderlo? ok adesso sappiamo che per accendere un fuoco è sufficiente prendere il telefono e buttarlo nel camino dopo neanche un minuto oddio non posso chiamare alcun soccorso senza telefono ragazza mia fanculo alla logica questa volta dopo 12 capitoli non saremo con Yuma ma giocheremo con lui e basta anche perché il livello si tratta semplicemente di farsi una corsa in mezzo alla tormenta di neve e soprattutto non saremo noi a rivolgergli le domande per fargli salire l'umore ma sono poste da non si sa chi sono domande sulla determinazione di Yuma per ritrovarci e venirci a chiedere scusa dato che lui si è già pentito per le risposte che ci ha dato in precedenza al termine di quest'ultima missione Yuma farà il suo ingresso nella baita così alla lunitunz maniera tutto questo mentre noi praticamente staremo morendo di freddo Yuma però ci ricorda che i cavalli hanno una temperatura corporea più alta di quella nostra quindi potrà riscaldarci facilmente e di quel che è successo in quella baita non si seppe più nulla anche perché tutto si concluderà con un bel ti terrò calda così per sempre lascio a voi la libera interpretazione ok finalmente l'ometto dice che la storia tra i due è conclusa mi sarei aspettato qualcosa di più soddisfacente ma va bene così se non che abbiamo sbloccato una side story praticamente ci viene detto che la nostra avventura prosegue e il capitolo si chiama ciclo senza fine e veniamo avvisati che non esiste un livello successivo già con un titolo del genere le cose mi sembravano leggermente strane la stalla solita viene sostituito da un immenso prato verde contornato da una struttura importante con statue di cavalli ma soprattutto né noi né Yuma e né il cozzalo sappiamo né dove ci troviamo esattamente né come siamo arrivati Yuma dice di essersi svegliato e si è ritrovato lì noi diremo di essere andati al bar con gli amici a festeggiare e da un certo punto siamo svenuti e ci siamo ritrovati anche noi lì mentre il cozzalo dice di aver seguito un animale nel bosco e poi si è ritrovato insieme a noi le domande inoltre che vengono poste nel gioco sono sempre più strane e gli unici dialoghi sui personaggi sono riguardanti quello strano posto dove paradossalmente tutti si trovano bene nonostante non ci sia nulla nei paraggi e da un certo punto comincia a palenarmi in testa una teoria torniamo indietro alla missione dove Yuma è solo e ci sta cercando per le montagne è l'unico capitolo dove noi non siamo presenti e se la ragazza non sia in realtà stata salvata da Yuma ma in realtà è morta siderata lì dentro oppure Yuma effettivamente è riuscita a trovarla ma durante il sonno sono morti entrambi inoltre ogni capitolo ha un passaggio logico a quello successivo vale a dire nel diario che sbloccheremo possiamo vedere la storia cioè abbiamo un punto dove possiamo leggere e c'è un collegamento con la storia successiva questo c'è sempre fino alla fine tranne per gli ultimi due capitoli infatti alla fine nel diario si dice soltanto che Yuma e la ragazza da quel momento sarebbero stati insieme per sempre la side story è un ciclo continuo dove tutti stanno bene e non sanno dove in realtà si trovino lo stesso Cozzalo dice di essere stato nella foresta e non ha mai parlato del suo ritorno ragazzi sono tutti morti questa cosa mi ha turbato davvero tanto non sto dicendo per certo che lo siano ma effettivamente dai dialoghi che si possono leggere dove si parla di ma questo è veramente il paradiso come mai non possiamo andare da nessuna parte è veramente l'unica cosa che mi viene in mente anche alla luce di tutti gli ultimi capitoli dove la tizia sta nella baita e non si sa come sono ritornati indietro lei sentiva molto freddo e si è persa questa è per quanto possa essere bizzarra la mia interpretazione anche perché non è prevista più nessuna gara che era un argomento ricorsivo di tutti quanti gli episodi a partire dal primo e l'unica cosa che si può fare è stare nel grande prato verde a mangiare carote come accadeva precisamente nel primo capitolo effettivamente è un po' triste come cosa è un po' creepy ma secondo me è l'unica interpretazione a partire dal primo capitolo